Ciao a tutti e bentornati alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna insieme ad Erika Zini e come potete vedere insieme a Laura Bonalumi per parlarci del suo libro Voce di Lupo uscito per una nuova collana di IPM che si chiama I Vortici. Innanzitutto diciamo qualche cosina anche su questa nuova collana. Buonasera a tutti, grazie per essere qui con me. Questa è una nuova collana che è uscita appunto per il Battello a Vapore, casa editrice famosissima, che ha deciso di provare secondo me a sfidare il mondo della narrativa per ragazzi e adolescenti, per gli adolescenti e per le scuole medie. Infatti questa collana, I Vortici, è dedicata appunto ai ragazzi che frequentano le scuole medie che è un po' risaputo abbiano difficoltà a leggere ma soprattutto anche a trovare letture adatte a loro. Infatti ho già visto che ci sono libri molto diversi tra di loro all'interno della stessa collana, quindi anche linguaggi diversi. Sì, assolutamente, linguaggi diversi e anche perché diciamo sempre ai ragazzi che per ognuno di loro esiste il libro giusto. Ed è assolutamente vero. Per venire invece a Voce di Lupo è un romanzo molto particolare in cui la natura ha un peso specifico, potremmo dire. La natura che al giorno d'oggi i ragazzi vedono e visitano davvero molto poco. È una scelta casuale la tua? No, è una scelta voluta. Diciamo che è più una speranza. Quella di riuscire a catturare un po' l'attenzione dei ragazzi affinché si accorgano che fuori dalle quattro mura domestiche e al di là del vetro del cellulare e di un computer esiste un mondo che poi è il nostro mondo, anzi è la nostra casa, la natura. E a maggior ragione andrebbe rispettata, ma soprattutto conosciuta prima. Quindi la storia che narra di questo ragazzo nel bosco è un invito certo non magari a intraprendere una camminata nel bosco in solitaria ma è un invito a chiedere consiglio anche alla natura. Infatti in questo bosco è successo qualcosa di terribile all'interno di Voce di Lupo quindi si parte dal bosco e si ritorna al bosco. Sono diversi anche i sentimenti che permeano tutto questo libro. Accadono cose, come dice il retro, che ti cambiano per sempre. Vuoi parlarci dei personaggi? Questa è una storia di amicizia, è una storia di tre ragazzi due ragazzi e una ragazza che vivono la quotidianità della scuola degli hobby, dello studio insieme ma che soprattutto li coinvolge a livello emotivo. Il valore dell'amicizia per i ragazzi è fondamentale è indispensabile soprattutto perché i genitori, gli adulti hanno pochissimo tempo da dedicare loro quindi trovare un amico, trovare un coetaneo che parli la stessa lingua e che condivida le stesse paure le stesse gioie è fondamentale però a volte la vita ci mette di fronte a delle situazioni estreme, dure e difficili. Infatti in questo romanzo, che parla oltre di amicizia parla anche di perdita, uno dei ragazzi muore durante un incidente in montagna e qui viene a mancare un punto di riferimento soprattutto per l'altro ragazzo viene come a mancare una parte di sé addirittura questo ragazzo dimentica il proprio nome perché si sente come svuotato da questa perdita così importante e così improvvisa. Un insegnamento che senz'altro dà il libro ma in generale poi la vita è che non si può tornare indietro a riavvolgere un nastro e farlo ripartire come si vuole però qualcosa si può fare e magari la natura può essere un aiuto in questo senso. Ma la ricetta non c'è non esiste la parola magica che possa confortare o che possa portare tutto riportare tutto come era prima. Io spero, penso che soprattutto la risposta o forse non dico la soluzione ma la risposta alle tante domande che ci si pone ad esempio il protagonista si pone la domanda perché la vita ti regala momenti così dolorosi forse la risposta sta davvero dentro noi stessi e quindi ecco il ritorno alla natura il ritorno nel bosco magari a ripercorrere lo stesso cammino che aveva portato via l'amico per cercare delle risposte che poi effettivamente le risposte sono dentro di noi e secondo me il silenzio della natura e di un bosco possono creare l'atmosfera giusta affinché uno possa sentire la voce che sta dentro di noi poi se magari arriva anche un lupo ma Bene, allora non svegliamo troppo del romanzo perché è bene leggerlo per immedesimarsi appieno in quello che sono le storie dei personaggi e in questo lupo che dico non parliamo però mi piacerebbe che tu mandassi un messaggio ai tuoi futuri lettori che cosa ti piacerebbe che gli rimanesse una volta finita la lettura del tuo libro? Beh innanzitutto che rimanga assoluto il valore dell'amicizia perché è fondamentale trovare qualcuno con cui condividere le proprie emozioni le proprie passioni e i propri sentimenti e poi sì, il messaggio spegniamo ogni tanto queste macchinette dei desideri i cellulari, la televisione, il computer e proviamo a godere del silenzio che circonda la nostra casa magari il silenzio che regala la natura per trovare le risposte dentro a noi stessi questo è importante e con questo bellissimo messaggio vi salutiamo anche dalla Fiera del Libro per Ragazzi insieme a Laura Bonalumi e insieme a Voce di Lupo vi diciamo anche di tenere d'occhio vortici la nuova collana di PN perché ne sentirete delle belle grazie, grazie a tutti e buone letture buone letture